Se la disputa tra il presidente Roberto Felleka e Maria Assunta Pintus, soci della corporate che controlla la società rossonera, rischia di finire in tribunale, in casa Foggia c'è un'assoluta priorità e riguarda l'allenatore. Con Nini Corda, destinato a ricoprire il ruolo di direttore dell'area tecnica, c'è infatti una casella vuota nello staff e la scelta, in sinergia con la società, tocca proprio allo stesso Corda. Raffreddata la pista che portava Vincenzo Cangelosi, storico secondo di Zdenek Zeman, ora c'è un poker di nomi in corso di valutazione. Piace tanto Vincenzo Maiuri, terzo nell'ultima stagione, con il sorrento rivelazione nel gruppo H di Serie D, unica squadra capace di vincere allo Zaccheria. Gli altri profili studiati sono quelli di Stefano De Angelis, ex Cosenza, Giovanni Tedesco, ex centrocampista del Foggia negli ultimi quattro anni impegnato nel campionato maltese, e Antonio Andreucci, che nell'ultima stagione ha portato in C il campo d'Arsego, salvo vedere il club non completare l'iscrizione. La scelta procede a rilento, tempistica condizionata dall'incertezza riguardante la categoria in cui giocherà il Foggia, che attende con attenzione l'evoluzione della questione giudiziaria riguardante Picerno Bitonto. Intanto, all'inizio della prossima settimana, il gruppo Rosso Nero, dove non ci saranno Viscomi e Gerbaudo, passati rispettivamente a Varese e Mantua, si ritroverà in sede per i test sierologici e partirà poi per il ritiro di Trevi nel Lazio. Resta ancora da stabilire il periodo preciso in cui il Foggia si trasferirà stabilmente in Terra Ciociara. Molto dipenderà da date, termini e modalità di sesseramento dei calciatori relativi alla prossima stagione, oltre che dei protocolli anti-Covid riguardanti lo sport.